Ciao e benvenuto in questo nuovo vlog, format che rappresenta la morte della creatività e la creazione di disturbanti relazioni parasociali. Ho deciso di buttarmi in questa idea infernale non solo perché a quanto pare la gente piace farsi gli affari degli altri, ma soprattutto perché lo vedo come un modo per responsabilizzarmi un po', per ricordarmi di quelli che sono gli obiettivi che mi sono messo per questo 2024, per il futuro, e effettivamente avere un qualcosa che mi costringa a vedere se sto lavorando per raggiungere e avvicinarmi a quegli obiettivi. Almeno questa è la scusa che mi sono dato dal momento in cui ho iniziato a registrare, spero che sembri abbastanza valida. Prima di iniziare un po' di precauzioni sul format del vlog in generale, non solo il mio, quello che state vedendo è una selezione di quello che la persona davanti a voi decide di scegliere, sempre più o meno con la presunzione di voler apparire meglio di quanto non si è. Quindi questa è una cosa importantissima da tenere a mente, sia quando guardate i miei video, sia quando guardate i video degli altri, e appunto per quanto io ci scherzi sopra, vorrei evitare il più possibile situazioni cringe e relazioni parasociali che non portano nulla di buono né a me né a voi. Anzi, in realtà a me potrebbero portare un sacco di soldi nel caso in cui funzionassero bene, però a che prezzo? Quindi evitiamo. Proprio su questo tema ho letto sul libretto degli streamer di Twitch che è importante darvi dettagli inutili sulla mia vita privata in modo che si crei questa finta relazione. Quindi ringraziamo mia sorella Francesca che mi ha regalato questo bullet planner, dove all'interno ho segnato alcuni degli obiettivi di cui vi voglio parlare in questo video. Ovviamente mia sorella non si chiama Francesca, vedete quanto è facile mentirvi in questi video, però il bullet planner è vero, gli obiettivi sono veri e quindi ne parliamo un attimo. Ovviamente come tradizione vuole, verso l'inizio dell'anno ho cominciato a segnare un po' di cose che vorrei fare per il nuovo anno, parlando sempre degli stessi temi, quindi salute fisica, salute mentale, lavoro, soldi eccetera eccetera. Poi ho pensato a un approccio diverso, mi sono chiesto ma Tommaso ha 30 anni, come vorresti che fosse, come sarà in uno scenario in cui le cose vanno tendenzialmente bene, chiaramente sempre realistico, però cos'è che fa, cosa ha imparato, cosa ha di diverso da te, come si sentono le persone magari quando parlano con lui, quali sono le cose a cui pensano. Sono uscite un po' di cose interessanti, chiaramente non vi dirò tutto, fatevi i cazzi vostri, però ci sono alcuni punti che mi sono segnato, che condividerò con voi e poi il mio obiettivo è quello di mostrarvi il progresso su questi punti mano a mano che i vlog vanno avanti. Già nel vlog di questa settimana per esempio ci sarà il primo tic su uno degli obiettivi, che mi sono messo per questo anno, uno dei temi principali di questo 2024 sarà l'urgenza. Ora, mi rendo conto che urgenza possa facilmente portare a tutta quella idea di produttività tossica, di grindset 24 su 7, ovviamente non è quello che ricerco, però mi sono reso conto che io avevo tante idee carine di cose che mi piacerebbe fare, sarebbe carino un giorno farle, che però sono rimaste lì dai tempi di liceo e che non ho mai fatto, non mi sono mai mosso in merito. Questo accade anche perché quando uno ha una routine di cose che succedono, ha un lavoro, ha una vita privata, ha un cane che si siede sui cavi mentre stai registrando e fa casini, ci sono sempre tante cose con cui occupare il tempo e anche quando non hai cose con cui occupare il tempo magari dici ma sai che c'è adesso mi rilasso, mi metto a vedere una serie tv, oppure ti stai sul divano, ti addormenti e passa così il tempo, le ore. Chiaramente va benissimo, è una cosa che continuerò a fare come tutti dovrebbero fare, il relax, il riposo sono fondamentali. Mi piacerebbe che a volte alcuni di questi tempi di riposo vengano sostituiti da attività che comunque per me sono ludiche, legate alla musica, legate alla comicità, legate alla scrittura, che però hanno anche un effetto, diciamo nel medio e lungo termine, che mi porterà più vicino ad alcuni degli obiettivi che mi sono posto. Questa è un po' una delle sfide di quest'anno, come faccio ad assicurarmi che io effettivamente poi queste cose le faccia, che dedichi il tempo a questi aspetti della mia vita? Un po' con questi vlog, cercando appunto di tenermi responsabile. L'altro aspetto è quello dell'urgenza, cioè come qualsiasi essere umano che non è dotato di forza di volontà infinita, l'avere una deadline per fare qualcosa è molto importante per me, mi aiuta molto a concentrarmi sull'effettivamente fare una cosa e non continuare a rimandare. Vi porto subito un esempio. Mi piace l'idea di fare stand-up comedy, di fare un esperimento dove io vado sul palco e faccio il mio spettacolo di 5 minuti. Questa idea in realtà, diciamo concretamente, è nata forse due mesi fa, più o meno, quando sono andato a vedere degli spettacoli di stand-up comedy in italiano, qui a Lisbona, ma poi mi sono reso conto che comunque era un qualcosa che poteva abbazzicare nella mia testa, anche se non in forma concreta, già da tanto tempo, quando ho iniziato a vedere gli spettacoli di stand-up ormai, non lo so, 7-8 anni fa forse. E quindi ho detto sai che c'è? Io vado e faccio lo spettacolo. Io avrei potuto dire sai che c'è? Adesso ci penso un attimo, vedo cosa fare, invece ho detto no, il 9 gennaio c'è questa cosa, vado, lo faccio, basta, è facile, è facile. Una volta che mi sono detto lo faccio, mi sono messo lì una mattinata, ho scritto il pezzo, il pezzo era anche troppo lungo, quindi poi il lavoro in realtà è stato più capire cosa togliere per passare da 15 minuti a 5 minuti. Sono andato sul palco, non è stata una cosa traumatica, è stato tranquillo, divertente, la gente ha riso e quindi basta. Questo è un po' l'approccio che voglio avere per tante cose all'interno di questa lista. Devo assicurarmi di approcciare questi temi con urgenza, non tutti allo stesso tempo, possono essere un po' per volta, uno per volta, può essere che per due settimane mi prendo una pausa, può essere che uno di questi obiettivi diventi parte della mia routine, diventino proprio questo, non siano più un tarro nella testa che deve ricordarmi di farlo, un qualcosa che faccio semplicemente perché mi piace e perché fa parte appunto della mia routine. Vi parlo della stand-up perché porta a uno dei primi temi su cui ho ragionato alla fine del 2023, cioè il mio lato artistico, che è fondamentalmente sepolto da tanto tempo, da più o meno quando mi sono trasferito a Lisbona direi, quindi quasi sei anni fa. Io scrivevo al liceo tantissime idee di canzoni, tantissime, diciamo, durante le lezioni uno dei miei passatempi era quello di scrivere qualche idea di misto tra poesie e canzoni, diciamo, non erano mai musicate, erano più poesie perché poi a me piace molto l'estetica della scrittura, l'interazione, i giochi di parole. Comunque mi sono reso conto che non scrivevo più tanto, che magari anche a livello di musica vera e propria, mi sono rimasto fermo, cioè io sono sei anni che ogni mese per mezz'oretta, per un'ora, strimpero la chitarra, faccio sempre le stesse cose, non progredisco, non ho mai studiato la chitarra in maniera seria, però mi piacerebbe migliorare. Il piano, io pochi mesi prima di partire per Lisbona, tempismo perfetto, comprai una penola, cominciai a fare i primi studi, poi però non ho più continuato. Vorrei almeno registrare una canzone che ho scritto al liceo, in particolare c'è tutta una serie di idee di canzoni che scrissi legate all'Odissea, forse stavamo studiando quello in quel momento, quindi sui libri scrivevo di questa roba. Fondamentalmente è una serie di brani che ripercorre tutta la storia dell'Odissea e va anche un po' oltre per riflettere su appunto questo viaggio che poi è anche un viaggio artistico e quello che succede anche dopo che si torna ad Itaca e che ci si comincia a stancare di Itaca come città della vita dopo che invece ha vissuto le avventure, quindi ci saranno anche dei richiami all'Ulisse di Dante, parlo come se questo già diventerà un album, ovviamente no, però ecco l'idea era un po' quella, mi sembra una cosa carina e quindi vorrei almeno provare a dare vita a una canzone che poi io mi posso risentire per conto mio dove appunto parlò di queste cose, penso che lo devo al Tommaso 15enne, 16enne che scriveva sta roba invece di studiare. Poi ovviamente ci sono i soliti obiettivi di salute, io dopo che sono stato male nel 2021 ho perso tantissimi chili, poi ho ripreso peso a una velocità clamorosa, sono passato da 68-69 chili a 86 adesso, ci saranno obiettivi sia legati appunto proprio alla percentuale di massa grassa che devo raggiungere, ma anche di pesi veri e propri da fare in palestra, perché penso che sia un buon proxy per continuare a migliorare in quello che faccio in palestra, per assicurarmi di non annoiarmi nella routine del fare esercizio fisico. Io ho finito con questo pippone introduttivo, vi faccio vedere qualche clip della settimana e poi a fine video torniamo con la struttura in cui traccerò quello che succede all'interno della settimana, in cui segneremo quando qualche obiettivo viene raggiunto o ci sono dei passi importanti fatti verso il conseguimento di un obiettivo, vedrete come è andata la settimana, cosa ho fatto e cosa non ho fatto a livello di routine, a livello di task che volevo fare importanti e niente, vi lascio al Tommaso del passato che in teoria dovrebbe essere futuro, ma è tutta una finzione. Piove, fa freddo, è lunedì, ma io e Simbad ci andiamo ad allenare, non ci sono scuse perché la motivazione dell'inizio del nuovo anno sicuramente non è sostenibile, non dura, però se c'è usiamola, no? Perché no? Ciao, come puoi forse vedere dalla mia faccia l'allenamento è iniziato, sta andando bene ed è successa una cosa che mi ha detto, sai che forse ha senso iniziare a fare un video e parlarne. Ho caricato 85 kg per fare squat, che è un numero in realtà relativamente basso, però io non l'ho mai fatto. Una volta che me li sono messi sulle spalle mi sono reso conto, a cavolo, io non posso farne uno, cioè posso farne due, posso farne tre, posso farne quattro, ne ho fatti cinque, poi ho cominciato a vedere, ok, la forma dello squat si sta un po' peggiorando, mi piego troppo in avanti, do troppo di schiena, fermiamoci qui prima di farcire il male, anche perché sono tre settimane che non mi alleno. E prima di oggi, sullo squat, io avevo fatto solo 60 kg, magari altre ripetizioni però 60 kg. Ho un video esattamente uguale a questo, dove vi parlo del fatto che ho fatto 70 kg, ok? Ho iniziato a registrare oggi, cinque minuti fa, e poi mentre registravo quel video ho detto ma cavolo, ma veramente sto facendo tutta sta storia per 10 kg, 70 kg? Aggiungiamo. E quindi sono passato da farne 60 a farne 85. E per me è stato importante mettermi questi kg sulle spalle e spostarli, cioè tanto che adesso ho voglia di metterne 90, cioè non dovrei farlo, infatti non lo farò, non lo farò perché è imprudente, però la prossima volta, magari quando c'è Gil qui con me che mi allena, io 90, 100 li voglio mettere a questo punto, perché so che posso farlo, lo sapevo anche prima teoricamente, ma adesso lo so in pratica. Cioè questa può sembrare la formuletta da guru motivazionale, io sto cercando di non trasformare questo video in quello, ma non è così, io queste cose le so, le applico in tantissimi aspetti della mia vita, ci sono tantissime cose che io faccio, le persone che conosco mi dicono ma tu sei matto, ma tu non hai paura di quello che può succedere, e per me è la normalità. Ma poi mi rendo conto che ci sono altri aspetti della mia vita, come magari in questo caso lo squat, dove non seguo questi principi, perché ho dei blocchi mentali diversi, perché magari non mi sono rivisto nella stessa situazione, quindi non riesco a traslare gli insegnamenti da una parte all'altra in maniera così facile, devo mettermi e affrontare la paura di petto e farlo. Questo è un po' il modo in cui mi sono posto per raggiungere il Tommaso a 30 anni, di cui magari vi ho già parlato in questo video, cioè come affronto la vita, come affronto le cose, come mi pongo nei confronti di quello che voglio fare affinché poi le cose avvengano, come mantengo questo bilanciamento tra l'essere razionale, il pianificare le cose, l'essere realista, molto che razionale, poi il fatto che io comunque voglio fare un botto di roba, voglio fare tante cose, cose importanti, cose che richiedono tempo, richiedono impegno, e ci sto lavorando. È questo misto difficile tra manteniamo gli obiettivi realistici, reali, conservativi, ma manteniamo anche sta cazzo di urgency, no? Cioè questa cosa no, non la farò domani, la faccio oggi, la faccio oggi e vediamo come va. Poi fallisco, la facciamo di nuovo domani, dopo domani, ci alleniamo e la ritentiamo la settimana prossima, però intanto fai qualcosa, perché altrimenti questo è domani, questo è dopo domani, quello è dopo domani ancora, e poi non succede mai niente, non sposti mai il peso, 85 kg non ci arrivi mai. Piccole vittorie che ci casano, che ci mandano avanti, perché in questo caso qui della palestra, poi, è chiaro che il bottleneck, il limite, non era la mia muscolatore. Qui c'erano due limiti, il limite mentale, il limite del sistema nervoso centrale, del Tommaso pensatore che dice ma noi sti 60 kg non abbiamo mai fatti, che succederà, e il limite del fiato. Quindi da una parte abbiamo il discorso del, ok, tu a volte sei il limite di te stesso, non ti metti alla prova abbastanza per dimostrarti che le cose le puoi le sai fare, dall'altro abbiamo l'esempio del, guarda che tu magari con 60 kg poi dopo ti senti stanco, non perché i quadricipiti non ce la fanno più, non perché i glutei non ce la fanno più, ma perché c'è qualcos'altro che ti limita. Nel mio caso magari il fiato, no? Perché lo squat è un movimento multiarticolare, molto complicato, quindi affatica molto il corpo. Uno come me che magari ha giocato a calcetto cinque volte negli ultimi sei anni e che è da tanto che non corre più, sempre di nuovo, tornando anche al discorso delle ginocchia, e si affatica per altri motivi. Quindi tu sei convinto che il limite sia in una parte X, ma poi invece in realtà è Y nel limite. Quindi devi allenarti su quello se vuoi continuare a migliorare. Non c'è bisogno che tu continui a fare cose suboptimali per lavorare su X quando X in realtà neanche lo stai stimolando. No, vai a capire bene cos'è che veramente pone un problema. Magari spendi un po' di tempo per capire se c'è qualcos'altro che ti sta limitando. Magari nella tua carriera non stai progredendo non perché tu non sia bravo a fare la manzione principale che hai, ma perché c'è qualcos'altro che ti limita. Non sei bravo a comunicare con gli altri, non sei bravo a ottenere l'approvazione dagli stakeholder, oppure non sei bravo a presentare quello che hai fatto, i tuoi risultati, e quindi poi le persone non ti notano. Eh, quante riflessioni possono nascere da 25 kg in più sul bilanciere? Nella parte che Ilaria taglierà di questo video ho detto una cosa sbagliata. Ho detto spero che queste non siano banalità. Sono banalità. Le ha dette qualche filosofo greco migliaia di anni fa, e le hanno ripetute migliaia di persone dopo di lui, se non milioni di persone dopo di lui. Sono banalità. Sono cose che io stesso ho sentito tantissime volte, cose che io stesso applico nella mia vita in tantissimi contesti. Però, nonostante siano banalità, a volte ho bisogno di non solo sentirmi ridire, ma soprattutto di ripassare questi argomenti su me stesso. Quindi niente, da David Goggins è tutto, ci sentiamo domani. Ok, appena tornato dal primo open mic, possiamo già togliere il primo item dalle liste di cose da fare per il 2024. Sono abbastanza soddisfatto. Sembra che sia piaciuto alle persone. Forse è già disponibile su Instagram, quindi vi lascio il link sotto in caso vogliate andarla a vedere. Sto andando con Simbad, se mi vede il tremolante è per quello. Lo light della serata è il fatto che, riguardandomi in video, mi faccio schifo. Si vedono tutti i ripresi a Natale e non solo. Però, va bene, sarà un'altra delle cose da provare a passare e ignorare, almeno per adesso. Usarlo solo quando ci serve questo sentimento, ricordarcelo quando ci stiamo allenando, ma non quando pensiamo di voler postare qualcosa sui social. Perché, non so, penso sia stato carino, quindi mi piacerebbe avere questo ricordo e sentire magari anche i feedback delle altre persone. Mi sono dimenticato una battuta. Forse potevo gestire meglio questa parte sul palco. La parte di improvvisazione non mi sono piaciuto, però non ho trovato nulla di interessante da dire. Comunque l'importante è che le persone abbiano riso. Io ho fatto questa cosa, mi sono divertito. Vediamo se continuerò oppure no. Vi saluto. Anche se in vado. Vi saluto. Ciao, eccoci qua per il resoconto della settimana. Una settimana complicata da un certo punto di vista, però per gli obiettivi che ci siamo posti all'interno di questo format, devo dire abbastanza positiva. Ci sono stati bei passi in avanti. Avete visto quello sulla stand-up, avete visto la parte sulla palestra. E quindi direi che è tempo per vedere esattamente come sono andati i giorni, che cosa ho fatto, che cosa non ho fatto, delle routine che voglio seguire e un aggiornamento sugli obiettivi che mi sono posto come stanno andando. Questa è la vista che utilizzerò per tracciare le mie giornate. Molto semplice, non voglio farla troppo complicata. Fondamentalmente questa è ogni giorno della settimana e queste sono le routine che vorrei seguire. Quindi assicurarmi di avere esposizione al sole la mattina, che fondamentalmente quando sono a Lisbona significa portare Simbad a spasso, cosa che è successa tutti i giorni, tutte le mattine. Questa è una cosa importante. Se vi interessa, c'è un podcast molto molto importante di Andrew Huberman sul tema. Lui ha proprio studiato questa cosa. Lui, se non sbaglio, si occupa di neuroscienze, sì, ma nello specifico oftalmologia. E quindi, insomma, ha visto quanto è importante per noi avere un'esposizione diretta alla luce solare la mattina quando ci svegliamo, per tutta una serie di motivi. Poi esercizio fisico. Quindi oggi siamo a sabato, manca la domenica qui, quindi ancora non ho avuto tempo, ma dopo questo video mi andrò a allenare. Quindi verrà selezionata questa opzione. E poi day planned. Allora day planned è qualcosa che in realtà facevo spesso prima. Beh, in realtà per oggi più o meno l'ho fatto. E che vorrei fare di più. Mi sono reso conto che quando lo faccio sono più organizzato. Fondamentalmente vuol dire che utilizzando HakiFlow, startup italiana che, insomma, vi consiglio di controllare, metto a calendario le attività principali che voglio fare in quel giorno e a che ora. Quindi quella tecnica che molti chiamano calendar blocking. Poi read, quindi chiaramente se ho letto qualcosa, o read, dipende se lo vedete presente o passato. In questa settimana ho letto tre giorni. Oggi dovrei trovare un po' di tempo per leggere, quindi siamo al quarto. E su questo punto poi magari in futuro vi farò vedere quella che è un po' la mia lista di libri da leggere. Quindi il mio obiettivo è darmi una lista di libri che voglio leggere per ogni mese. In particolare al momento sto leggendo principalmente Animale Morente di Philip Roth. È forse uno dei primi romanzi che leggo con Audible. È un'esperienza interessante. Poi la voce che legge è molto intrigante, quindi devo dire fino adesso esperienza positiva. Ce ne sono un altro paio che voglio finire per gennaio, di cui poi vi parlerò. Meditazione. Allora, meditazione, mi sono reso conto che non ho fatta questa settimana ed è il motivo per cui io faccio sto lavoro. Cioè dire cavolo Tommaso, ma tu hai detto che vuoi meditare, sai che è una cosa che ti piace, però non l'hai fatto. Perché? Come mai? Ho letto anche un libro, tra l'altro anche questo su Audible stranamente, che si chiama How to Train Your Mind. Ecco ho trovato il titolo di Chris Bailey, che parla di meditazione, diciamo non è un must read, però è interessante perché lui cerca di trovare una maniera razionale di giustificare il tempo che dedichiamo alla meditazione, dimostra, tra virgolette per quanto puoi dimostrare una cosa di questo tipo, che guadagni tempo nell'investire tempo a meditare, nell'esercitarti nella meditazione. Mi trovo abbastanza d'accordo, penso che sia una cosa positiva, però questa settimana non l'ho fatto anche perché non ho messo a calendario nessun momento per farlo e non è legata a nessuna routine che ho. Ecco questo forse è un primo action point che possiamo prendere da qui. Per esempio quando andavo in palestra, adesso appunto ho la palestra qui in ufficio, quando andavo in palestra io ricordo che facevo meditazione nella sauna, che era una scusa sia per andare in sauna, ma anche per meditare e devo dire era utile. Magari qualcuno entrava e mi guardava in modo strano, però era una bella attività. Ne parla anche un altro libro che vi consiglio, che è Atomic Habits, di come sia utile fare stacking di abitudini, quindi provare a unire abitudini tra di loro, soprattutto se vi viene facile andare in sauna, insomma mi viene facile, perché comunque è un'attività piacevole, oppure una cosa che già fate e quindi per esempio il caffè la mattina e agganciarci un'altra abitudine che avete, quindi in questo caso che volete fare, scusa. Quindi in questo caso la meditazione. Per esempio nel mio caso potrebbe essere interessante agganciarla al caffè mattutino. Poi qua c'è una colonna del day score, day score quindi se devo valutare la mia giornata che voto chi do, vediamo è stato abbastanza positiva come settimana, a parte mercoledì, non per motivi insomma legati al tema di questi vlog, quindi il tema ricorrente del fatevi cazzi vostri entra anche qui. Diet score, quindi come ho mangiato in queste giornate, che voto mi do, vediamo che la media in tutti e due questi casi è 6.2. Ok, portiamola a un 7, 7 e mezzo almeno e poi quante ore ho dormito. Questa settimana decisamente ci sono stati due giorni in cui ho dormito troppo poco, quindi mercoledì e giovedì. Questo giorno mi ero dimenticato l'orologio e quindi non ho tracciato quante ore ho dormito. Bene, passiamo agli obiettivi. Allora qua c'è tutta una serie di obiettivi, per adesso, ecco, in realtà qua cambio, per adesso lo faccio concentrato su il quarter 1 del 2024, quindi da gennaio a marzo e poi vediamo. Allora, launch sheet pot posters, questa è una idea che mi gira in testa da un po', quella di lanciare questi poster finti motivazionali con le frasi di persone che magari sono state arrestate per truffa, quindi l'esempio che porto di solito è Elisabeth Holmes arrestata per truffa dopo essersi presa un sacco di soldi un sacco di investitori per un prodotto che non funzionava, che ha detto la cosa peggiore che può succedere quando qualcuno non crede in te e quindi voglio fare questi poster dove c'è questa citazione e magari poi ha scritto Elisabeth Holmes e sotto condannata per truffa a 13 anni di carcere eccetera eccetera. Diciamo è una cosa molto semplice da fare, semplicemente devo avere l'urgenza di trovare un designer che faccia i design per queste cose, oppure farlo io e poi rilasciare su qualche piattaforma, semplicemente verranno messi online in formato digitale credo e poi se qualcuno vuole offrire qualcosa per pagare il designer, magari possiamo farlo così, non so, ci penso. Poi stand up comedy shows, allora i primi due obiettivi che mi ero messo era fare un open mic in italiano e un open mic in portoghese, che ho già scritto, chiaramente in open mic in italiano adesso sapete che è stato fatto, quindi lo aggiorniamo in diretta, siamo al 33% dell'obiettivo, quello in portoghese l'ho già scritto, dovrei allungarlo un pochettino, chiaramente in portoghese mi è un po' più difficile scrivere sta roba, però c'è, devo solo capire dove e come andare per farlo e devo impormi di farlo prima del 31 marzo, quindi ci lavorerò. Poi learning, in learning c'è completare la lista di cose che voglio leggere per ogni mese, quindi qua piano piano poi aggiornerò, ho messo una media di 4 libri al mese, in realtà poi sarà più bassa, traccerò quanti effettivamente riesco a leggerne. Duolingo spagnolo, allora vorrei diventare diciamo discreto in spagnolo, fluente, dai, qual è il problema? È che parlando italiano e portoghese io confondo già queste due lingue tra di loro, adesso figuriamoci, aggiungere lo spagnolo al mix è mortale, però cominciamo piano, diciamo nel mese di gennaio vorrei fare, arrivare alla unit 15 di Duolingo, che è un pessimo gol, ok? Non usate questi come gol anche perché non so effettivamente come sia Duolingo, cosa voglia dire arrivare alla unit 15, però secondo me per gennaio può essere un primo obiettivo interessante e poi il secondo obiettivo è quello di essere capace di sostenere una conversazione casual in spagnolo, qualche altro c'è qui, a physical health il primo obiettivo è quello di raggiungere il 16% di massa grassa, che diciamo non è un grande obiettivo, però penso che sia raggiungibile, forse sarà difficile da raggiungere, non è un grande obiettivo in senso assoluto, però è importante partire da questi piccoli step, poi per quanto riguarda la palestra, questi gol sono un po' messi a caso, è importante capire che io queste cose le faccio, ma poi chiaramente a giusto se capisco che non sono in traiettoria, cioè è anche importante non incaponirsi su cose inutili, quindi in questo caso 130 kg di squat, probabilmente raggiungibile, avete visto forse la clip in cui vi parlo del passaggio da 60 a 90, l'altro giorno ho fatto di nuovo squat con Jill, col personal trainer che mi ha dato un po' di indicazioni e ho fatto 3 serie da 80, 10 colpi, no vabbè 12, 10, 8, una cosa del genere, anche perché poi insomma sì, ero già stanco e più andavo avanti più perdevo le energie, poi andiamo verso quelli che so diciamo predire peggio, a metà c'è i 100 kg di pancapiana, perché pancapiana è un esercizio che faccio, però su cui non ho mai spinto tantissimo a livello di massimale, per quanto riguarda lo stacco, io lo stacco non l'ho praticamente mai allenato, ieri appunto con Jill dopo gli squat mi sembra 50-60 kg, erano abbastanza leggerini, quindi so che posso salire però insomma con calma poi vediamo, poi cos'altro c'è? Ah, finisci e registra una canzone, quindi qui gli obiettivi sono due, finire il testo della canzone, da 0 a 100% mi sono dato un 35% attuale, chiaramente ci sono sia altre cose che dovrò aggiungere per far raggiungere la lunghezza ideale della canzone, sia cambiamenti che dovrò fare al testo per renderlo più musicale e poi trovare o creare la base musicale su cui canterò, poi chiaramente ci sarà la parte tecnica del registrare, quindi queste sono le cose che tracceremo insieme per ora, poi man mano che andremo avanti aggiungeremo altre cose, ci sono sicuramente altri obiettivi che vorrei che vorrei aggiungere, però partiamo piano, ogni settimana facciamo questo check-in, vediamo come va e niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo format, di questa idea e poi sarò curioso anche di vedere se voi continuate a responsabilizzarvi nei confronti degli obiettivi che vi siete posti, delle persone che volete diventare, delle cose che volete fare e che volete lasciare a questo mondo. Come al solito io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!